Ciao e benvenuti ad un'altra recensione. Oggi daremo un'occhiata all'action figure della Mattel della linea Ghostbusters, la nuova linea lanciata nel 2016 in occasione dell'uscita del nuovo film. E in particolare daremo un'occhiata a Stay Puft, in questa versione da 6 pollici, alto circa 15 cm. Come potete vedere già fuori dal packaging, l'ho già aperto infatti, vi mostro però la card che ho ancora qui. Magari per completezza vi metto in sovrimpressione un'immagine del packaging, dell'action figure nel packaging giusto per completezza. Vediamo la card, molto bella devo dire, con il logo Ghostbusters in alto a sinistra, la scritta Ghostbusters qui a destra, Questo slime, questo moccio verde che scende verso il basso, lo sfondo invece è nero, questa è la card. Vediamo il retro, vediamo l'action figure di Stay Puft, sempre lo slime che scende dall'alto. Sullo sfondo ci sono varie immagini, sembrerebbero dei segnali stradali con immagini di fantasmi e ectoplasmi vari. Qui vediamo la proton stream che va direttamente a colpire il logo dei Ghostbusters e qui varie parti da leggere, ma niente di importante, più che altro informazioni tecniche. Qui in basso la banda arancione, riflettente, che è tipica del nuovo costume dei Ghostbusters femminili. Non so voi che cosa ne pensate del film visti i vari trailer rilasciati, io devo dire non sono molto convinto, però probabilmente andrò a vederlo, sono incuriosito. E qui in basso vediamo il logo della Mattel. Davanti alla card avevamo questa targhetta con il nome del personaggio in varie lingue e sempre questa banda arancione riflettente che ricorda il costume delle protagoniste del film. Torniamo quindi a Stay Puft, essendo bianco ovviamente lo vedete bello sparaflesciato sotto le luci. Come non amare questo personaggio, un personaggio iconico del primo film del 1984, volevo richiamare l'attenzione un attimo su il nome del personaggio. Qui dice Stay Puft Balloon Ghost. Infatti probabilmente nel nuovo film Stay Puft, attenzione potrebbe essere un piccolo spoiler, anche se è una supposizione, non ho la certezza, potrebbe comparire come un ballone, stavo dicendo un pallone aerostatico, quindi un grosso palloncino gonfiabile, e che probabilmente verrà impossessato da fantasmi e quindi diventerà egli stesso un fantasma. La figura è quella classica di Stay Puft a parte per queste pieghe che sono sia sulle gambe che sulle braccia e quindi vanno a creare l'effetto pallone come se fosse gonfio d'aria. Ovviamente ha il suo classico, la sua classica mantellina da marinaio, blu con la riga bianca e il fiocco rosso, il cappellino con scritto Stay Puft. Il painting è molto pulito, devo dire, non c'è molto colore, però nelle poche zone in cui c'è è abbastanza pulito, a parte questa piccola imperfezione qui. Sul retro vedete questo battery compartment, questo compartimento per le batterie, le batterie sono incluse perché contiene le batterie questo personaggio? Perché ha una feature, una funzionalità, infatti sul fiocco c'è un tasto, un tastino, che se premuto accende un led, una luce rossa all'interno. Si vede poco, magari spengo una luce, eccolo qua, vediamo, forse si vede un po' meglio. Spendiamo anche l'altra per vedere l'effetto. Si, si vede abbastanza. Si propaga, vedete, fino alla testa, mentre le braccia e le gambe sono di plastica piena, non trasparente, quindi non vengono illuminate, non vengono per base dalla luce rossa. Riaccendiamo le luci sparaflescianti. Molto bello il volto, è nella sua versione, vedete, più simpatica, più sorridente, prima che venga arrostito dagli acchiappafantasmi. Vediamo anche qui il fiocco rosso sul cappello, molto bello, devo dire, è una figura molto, molto iconica e adorabile. L'action figure ha anche una buona articolazione, vediamola, tutto sommato, devo dire. Una rotazione a 360 gradi alla testa, al collo, le braccia possono ruotare a 360 gradi e muoversi in fuori e in dentro, grazie a una cerniera. La mano può invece ruotare a 360 gradi. La gamba può andare in avanti e indietro, vedete, ha una cerniera, indietro in realtà non più di tanto, anzi quasi per niente, e può ruotare a 360 gradi. Quindi in realtà potete anche orientare la cerniera, la cerniera qui sulla coscia è orientabile, potete anche posizionare le gambe all'esterno, se volete. Tutto sommato una buona articolazione, visto il tipo di personaggio, non particolarmente agile, devo dire. E una cosa che ci tengo a dire è che sta in piedi bene, riesce a stare in piedi abbastanza bene, senza problemi di equilibrio, nonostante i piedi molto, molto piccoli. L'ho acquistata personalmente da Forbidden Planet nel Regno Unito, a Londra. Piccola parentesi, se andate a visitare Londra non fatevi scappare una visita da Forbidden Planet, perché è veramente un paradiso, avrei comprato l'intero negozio. Ho acquistato questa action figure a 12 sterline e 99, circa 16,90 euro circa, con il cambio di allora. E devo dire che sono soddisfatto dell'acquisto, è un action figure molto ben fatta, con una feature semplice, ma sempre che mi piace molto, devo dire, mi piace sempre molto la feature dell'illuminazione. E ha anche tutto sommato una buona articolazione, quindi ve la consiglio. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di quest'action figure, fatemi sapere quali sono le aspettative su questo film, su questo nuovo film dei Ghostbusters. E detto questo io vi saluto, spero che questa recensione vi sia piaciuta e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!